Armi, munizioni da guerra ed esplosivi sono stati sequestrati a Foggia durante le perquisizioni a tappeto compiute nella giornata di ieri da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Lo Stato fa sentire la sua presenza dopo gli attentati intimidatori ai danni di diverse attività commerciali la notte di Capodanno, la bomba fatta esplodere sotto la macchina di un amministratore sanitario che in passato aveva denunciato le estorsioni dei clan e l'omicidio di Roberto D'Angelo, 53enne, commerciante di auto, freddato con tre colpi di pistola da due uomini a bordo di una motocicletta. L'operazione Alto Impatto, portata avanti dalle forze dell'ordine e anche con il supporto dei reparti speciali, ha condotto all'arresto di tre persone con precedenti penali, al sequestro di un fucile rubato, di munizioni e di un ordigno di quasi tre chili, sul quale, precisa il procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro, sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti di materiale esplosivo, solitamente utilizzato per compiere attentati dinamitardi o di materiale esplodente usato per la fabbricazione di fuochi pirotecnici. Passati al setaccio i quartieri popolari Candelaro e Cep, eseguite perquisizioni nelle abitazioni di soggetti già nuti alle forze dell'ordine. Il ministro dell'interno, Luciano Allamorgese, invita i cittadini ad avere fiducia nell'azione delle istituzioni impegnate per garantire sicurezza e tutela della legalità. Lo Stato ha fornito dimostrazione della sua capacità di reazione di fronte all'aggressione della criminalità, ha spiegato il procuratore della direzione distrettuale antimafia Giuseppe Volpe, che si appella ad una maggiore collaborazione dei cittadini nelle indagini. La stessa che solleciterà Donciotti nella sua visita a Foggia questo venerdì in occasione della grande manifestazione contro le mafie promossa da Libera, sindacati e istituzioni.